Buonasera a tutti i telespettatori e bentornati a bordo di e-Driver. Questa sera parleremo di un'altra importante struttura che sopporta il mondo delle corse. DPD Group, una scuderia toscana, oserei definire una scuderia da mondiale. Ci hanno raggiunto un po' da tutta Italia perché loro sono sparsi su tutto il territorio alcuni dei protagonisti di questa struttura. Io voglio cominciare a presentarvi, c'è Ruti Mario, benvenuto in studio. Benvenuto, grazie. Io voglio preannunciare il fatto che tu sei l'organizzatore del trofeo delle merende e poi dopo insieme andremo un po' a spiegare come si svolge questo trofeo. È molto giovane e lo invidiano in tanti perché va veramente forte, appena partecipato ad una tappa importante del campionato del mondo. È sicuramente una promessa del realismo italiano. Damiano De Tommaso. Buonasera a tutti. Benvenuti in studio, Damiano. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. È una presenza importante la tua perché Driver crede molto nei giovani e quindi sono contento che tu sia venuto qui a lanciare il tuo messaggio grazie anche a DPD. Soprattutto. Continuo dall'altra parte, non è più così giovane ma l'esperienza ha fatto, la fa da padrone, ne ha fatta tanta, ne sta trasmettendo tanta. Giacogliari. Buonasera a tutti. Sì, certo, l'esperienza conta, però è bellissimo vedere i giovani che vengono su. Assolutamente sì. E alla fine lui, Daniele Mori, il presidente Montecatini Terme, ci hai raggiunto. Quindi diciamo che, Daniele, sei riuscito a tirare insieme veramente una squadra non indifferente. Beh, sì, buonasera a tutti. Intanto, sì, siamo orgogliosi di tutti i nostri ragazzi che abbiamo nella nostra società. Settimana dopo settimana, gara dopo gara, fondamentalmente ci stanno dando veramente tanto da fare in quanto organizzativo ma anche tante, tante soddisfazioni. Marco, io ti presento per ultimo perché dopo i risultati che hai conseguito un mesetto fa ormai non c'è più bisogno di presentazione. Sei in cima alla Heat Parade. Non esageriamo. Dovresti fare un disco che secondo me potrebbe rendere qualcosa alla tua visione. Molto bene. Io parto ovviamente da quello che vorrei definire un po' la testa di serie di questa scuderia e Damiano. Damiano, tu sei molto giovane, stai facendo delle esperienze meravigliose, tanti parlano di te. Non per ultimo, io mi ricordo, parlai con Loriano Norcini una sera che ti vide correre e lui mi dice veramente quel ragazzo è un talento. Ci racconti un po' in breve la tua escalation? Certo, innanzitutto mi fa piacere sentire parlare alla gente in questo modo perché è una cosa che mi dà parecchio orgoglio. Detto questo, io ho iniziato, diciamo che sono nato dentro questo ambiente perché mio padre è un pilota di rally per divertimento dal 90 e quindi quando sono nato diciamo che camminavo più nella mia officina che a casa. Sarà stati contenti i tuoi professori? Esatto, mi sa proprio di no. Comunque aveva già qualche macchina da corsa, mi ricordo che la sua prima macchina è stata una Fiat Ritmo 130 e mi ricordo che quando avevo 3 o 4 anni mi portava già, quando andavo a provare la macchina mi caricava di fianco, mi portava e mi sono sempre, mi sono appassionato da subito diciamo. Poi a 8 anni mi ha comprato il mio primo kart, andavo a girare nel piazzale dell'officina, poi ho cominciato a far gare in pista e via dicendo e ho corso fino al 2009 mi sembra. Poi grazie a una licenza particolare e al supporto della scuola federale quindi vorrei anche ringraziare Giacomo Ogliari perché è stato il mio primo istruttore. Che è qui anche per quello, lui fa parte di VD Group, Giacomo è un istruttore federale e sicuramente ha contribuito parecchio al tuo talento. Esatto, ha contribuito parecchio, poi dopo essere stato il mio primo istruttore, poi da lì è nata anche una bellissima amicizia. E niente, poi ho iniziato a correre con le macchine di mio padre da 15 anni in poi, ho fatto i rally in pista che mi hanno permesso di fare molta esperienza soprattutto sulla guida e a 18 anni ho fatto la patente e ho cominciato a, ho debutato nei rally insomma. Insomma io credo che tu ci abbia debuttato alla grande perché queste parole, Marco mi sembrano un po' le parole che abbiamo sentito da qualche altro giovanissimo. Sì, uno dice ho debutato a 15 anni, come 15 anni? Cavoli, se uno già ha la possibilità di salire in macchina a 15 anni e fare esperienza, arrivi alla patente che hai già un bagaglio di esperienza notevole che ti servirà ovviamente per esprimere al massimo la tua sicuramente dote che hai. Se sei lì e sei dove sei è perché hai una dote innata. Jack, un anetodo simpatico su questo bel ragazzo giovane, dovevi tenerlo a freno da subito? Ma guarda, devo dire la verità che Damiano oltre ad essere un bravo, è proprio un bravo ragazzo, quindi ha ascoltato tanto e ha tanta testa. Qui non è stato un problema di tenerlo a freno, confronto ad altri che li devi tenere a freno, infatti io ho invidiato a lui sicuramente di poter cominciare a 15 anni. E non a 19 che abbiamo cominciato noi. Però devo dire la verità, è sempre avuto tanta testa. Quindi no, per tenerlo a freno no, anzi Damiano è un ragazzo che a 16 anni ne dimostrava già 25 come testa di stare in macchina. Nel parlare si vede, nel comportamento. E questo per me è un altro vantaggio grosso che lui ha, sicuramente viene dalla sua famiglia, da lui, però è un grosso pregio. Cioè Damiano oltre ad andare molto forte in macchina, lo dissi il giorno che sono andato la prima volta in macchina con lui, ho detto questo è un ragazzo che merita. E ne ho visti tanti, io a scuola federale avrò avuto più di mille allievi, quindi penso che ne ho visti tanti. E anche veramente bravi, gente che ha fatto carriera, però lui veramente merita. E il grosso vantaggio suo è che ha una grande testa. Testa nel senso che ragiona tanto. Daniele, tu ovviamente ti preoccupi anche molto dell'immagine dei tuoi piloti, tutti i contorni. Jack ci ha fatto notare una cosa veramente fondamentale, il comportamento. Cioè nelle grandi scuderie, magari quelle di Formula 1, conta molto quello che sei fuori dall'abitacolo. Proviamo a dare un consiglio, perché vorrei che anche il driver potesse diventare quella trasmissione che dà qualche input positivo. Cioè cosa deve fare? O fuori dall'abitacolo qualcuno che si sta... Vabbè, intanto principalmente l'immagine è una cosa importantissima. importantissima e è importantissima secondo me anche l'umiltà del pilota o del navigatore o comunque sia di tutte le persone che sono all'interno della nostra società, ma anche di altre società. Perché l'umiltà non ti fa sbagliare, non ti fa pensare di essere chissà che cosa e chissà chi è. Siamo tutti più o meno sulla stessa barca. E anche se poi i tempi parlano da soli, nel senso andiamo più o meno veloci in prova speciale. Però il rapporto umano tra le persone secondo me è la cosa più importante. Siamo felici di Damiano perché fondamentalmente, come ha detto Jack in questo momento, è un ragazzo che spicca per le sue doti velocistiche e spicca agli occhi di chi lo conosce e ai nostri occhi per la sua umiltà e per il suo buon carattere e per la sua cordialità con le persone. Quindi puntiamo molto su questo e ci fa molto piacere. Devo dire che non abbiamo solo Damiano, abbiamo anche molte altre persone perché non voglio fare... Ne l'hai tolto veramente da là. Stavo attendendo il termine della conversazione. Voglio fare certo un discorso solo discorso sul di lui, ma su tutti i ragazzi che abbiamo in società che danno una mano anche quando non corrono a fare ricognizioni o comunque sia uno sviluppo di logistica per chi in quel fine settimana sta correndo, si mettono a disposizione a ruota di tutti, diciamo. E questo è un po' il nostro volere, il nostro pregio, ecco, credo. Mario, è bello di essere una squadra... Una grande famiglia, ecco. Quindi penso che sia la cosa più bella e così ci si interscambia le opinioni, i suggerimenti per ottenere sempre il massimo. L'esperienza di quelli più grandi o comunque sia con più gare vanno come Jack sicuramente avrà fatto e farà con Damiano è la cosa migliore secondo me. Io, perdonatemi, mi ricollego un po' a un discorso che abbiamo fatto io e te prima, Mario, perché voi avete anche un ruolo organizzativo nel sociale, quindi l'appassionato vero di DPD, oltre a dare una mano agli altri quando non corrono perché probabilmente si sente sempre in corsa, organizza anche qualcosa di particolare. Te lo voglio lasciar dire. Sì, praticamente organizziamo questo trofeo delle merende. Che è notissimo a tutti gli appassionati. Sì, ormai questa edizione sarà la sesta. Devo dire un grazie enorme a DPD perché comunque grazie a loro ci supportano in tutto. Quest'iniziativa è nata sei anni fa, praticamente eravamo un gruppo di ragazzi, ossolani, che voglio ricordare perché comunque non sono io in prima persona a organizzare, ma se sono comunque una decina di ragazzi è nata da loro e senza di loro che sono a braccio portante non si sarebbe potuto fare nulla. Siamo partiti per cercare un'idea, per fare della beneficenza e per essere un gruppo perché comunque i rally non sono solo la competizione e basta. Secondo me i rally sono anche lo stare insieme, il far festa e soprattutto il divertirsi, cosa che comunque secondo me è importante. e abbiamo deciso di fare questo trofeo delle merende che è il merende proprio il nome gogliardico, nel senso il nome di divertimento e dove ci troviamo, abbiamo fatto le prime rioedizioni ad Augusta, poi abbiamo fatto tre anni a Parma e vorrei ringraziare l'organizzatore che hanno comunque dato totalmente la loro disponibilità e quest'anno torneremo ad Augusta perché quest'anno praticamente il nostro trofeo è in memoria comunque a due persone, ai nostri amici, un grandissimo navigatore che è Omar Pedrazzoli, un grandissimo pilota che è Francesco Pozzi e quest'anno è il decennale della morte di Francesco. Allora abbiamo deciso insieme a questo gruppo di amici di tornare ad Augusta proprio nelle strade dove è successo quel bruttissimo incidente dove proprio il venerdì quest'anno poseremo una bellissima cappelletta proprio in ricordo di Francesco sulla prova dove è successo l'incidente. Torneremo lì, come spiegavo prima, il venerdì sera facciamo una festa, una cena di gala come la chiamiamo noi, ma è per essere aggregati e stare tutti insieme, il sabato si fa provare tutti insieme e poi la domenica c'è la gara. Stessa formula come gli altri anni, nel senso abbiamo diviso tra top e junior, top sarà con le macchine N3 e junior con le macchine N2. Abbiamo scelto queste macchine per una questione anche di costo perché essendo una cosa benefica è una questione di costo, costerò relativamente poco e il ragazzo che tutto l'anno corre con questa macchina ha la possibilità di correre con campioni come Longhi, come Cantamessa, come gente che ci ha dato Augusto Franco, Callieri, gente che ci ha dato una grandissima Io ho visto personalmente e dalle classifiche, l'avrei notato anche voi, che tornare indietro Jack non è così semplice assolutamente. Ma no, assolutamente, tornare indietro non è mai facile, come neanche facile andare avanti, cioè nel senso che passare da una macchina piccola a una macchina grossa, se hai il talento allora è il talento che ti porta ad andare forte, ma se non vai forte con le piccole vai forte anche con le grandi. Se invece vai forte con le grandi e sono prove facili, con le piccole fa una gran fatica quindi è tutto insieme, sicuramente per andare indietro hai anche dei meccanismi diversi quindi bisogna riprendersi in testa tutto, far scorrere la macchina e altre cose. E vedremo se quest'anno questi grandi pilotoni saranno lì pronti a giocarsi questo trofeo con tanti dei nuovi driver. È giunto il momento della pubblicità, non andate via, a tra poco. Eccoci qui, torniamo in studio e ripartiamo da dove avevamo cominciato. Torniamo a Montecatini Termi dove nel 2008 nasce questa DPD Group. Io voglio andare da Daniele, tornare da Daniele perché mi sembra di capire che voi avete. Li chiamo satelliti, in realtà sono perni importanti di questa struttura, piloti in tutta Italia. Tanti eventi. Tu poi, io lo voglio dire perché sei molto conosciuto per una grandissima passione che poi è diventata anche lavoro perché DPD è anche un servizio di altissima qualità di camera car e filmati per i piloti durante le gare. Sei full immersion al motosport, Daniele? Beh, diciamo che la storia della DPD come società è nata dopo una mia grande passione. Io da quando ho 18 anni che ho iniziato con la macchina fotografica, quindi lavoravo per, diciamo, delle varie fotografie e andavo in giro per la Toscana perché chiaramente avevo 18 anni a fare foto per questi signori. E poi piano piano ho avuto la fortuna di conoscere la mia compagna che mi ha dato anche, diciamo, la forza e la competenza, lei avendo tanta esperienza, per poter creare questa cosa. La DPD, sì, è società ma è anche il mio lavoro, diciamo, esula un pochino dalla società, è più che altro un lavoro di camera car. Io volevo far notare ai tuoi spettatori che sicuramente da casa stanno guardando le immagini che tutto il materiale video che questa sera Driver sta trasmettendo è un materiale di vostra produzione. Voi siete molto attenti nel pre-post-gara, cioè chi guarda i tuoi reportage riesce quasi quasi a provare le sensazioni di quel momento in quell'ambiente, perché dettagli. Mi fa piacere che tu lo dica perché è un pochino la cosa che voglio trasmettere il ricordo del pilota stesso non deve durare soltanto per la gara, ma deve durare in eterno quando un pilota si mette seduto sul suo divano a casa in tranquillità è giusto che riprovi le stesse sensazioni che ha provato in macchina da corsa. Io, sì, fondamentalmente mi conoscono come DPD per questo lavoro di camera car e di immagine e sì, hai ragione, produco tutto, produciamo tutto noi anche per la nostra società giustamente perché abbiamo un occhio di riguardo per l'immagine come ti stavo spiegando prima e se riesco a fare le cose da me ho anche un occhio di riguardo in più. Jack, quanto conta? Io voglio, uso questo termine, trovare la pappa pronta perché è una cosa che mi diceva forse mio padre, però per un pilota che comincia, un giovane che arriva in una struttura come questa dove ha già delle linee guida da percorrere cioè è tutto veramente molto più semplice, un istrittore in casa, io non so se rendo l'idea. Certo, allora sicuramente l'avere, come hai detto tu, la bella parola, la pappa pronta è molto importante perché almeno chi guida, ma anche il navigatore perché è un ruolo molto importante anche quello, ha da pensare cose importanti al di fuori di questo. Poi sicuramente il navigatore ha un altro compito che deve seguire altre realtà ma se il pilota è libero di aver la mente libera e lucida di non pensare a tutto il resto è un grossissimo vantaggio. Poi ti dico, Daniele, io l'ho conosciuto, come stai spiegando tu? Cioè tramite dei camera car, poi siamo diventati molto amici ma è nato tutto da lì. Quindi diciamo che la professionalità di chi c'è dietro, come in tutti i lavori, come in tutte le realtà conta tantissimo. Sì, anche perché poi si dice sempre una frase ragazzi, si va a correre per divertirsi. Io voglio smentirla in toto perché personalmente quando corriamo abbiamo la voglia, la testa, ci mettiamo l'impegno di un professionista come potrebbe essere lui, poi lui coglie altri risultati ma è giusto che sia così. E quindi riuscire ad essere liberi, di concentrarsi solo su quel momento, Daniele, è importante? Ci sono tante cose pre-gara da dover sistemare, partire dalle iscrizioni, partire dalla macchina, ricognizioni e tutto quanto. E una struttura come la nostra è giusto che si prenda carico delle fatiche pre-gara così in modo da lasciare il pilota, come ha appena detto Giacomo, da lasciare il pilota completamente con il cervello libero alla sua gara, alle sue test, alle sue prove e affrontare la gara. Sì, tranquillo, concentrazione, infatti. A guidare che è il suo compito. Marco anche tu come me stai sognando, vero? Perché ogni volta che si parla di concentrarsi solo sulla guida è un attimo. Noi comuni mortali diventa sempre più difficile perché pensa a questo, pensa a quello, fai, organizza, trova tutti i sistemi per così, però diventa difficile. Sarebbe bello avere una struttura alle spalle come la vostra che pensa tutto e ti dici mi siedo in macchina, accendo di qua, vado e guido. Pronti, vieni. Troppo bello. Damiano, tu grazie anche alla Cittimitalia sei riuscito a raggiungere un traguardo molto importante, ovvero la Polonia, che è stata una della tappa del rally del campionato del mondo. Lì, dal giorno alla notte, lì passiamo su un altro emisfero. Sì, dal giorno alla notte perché ho avuto questa bellissima occasione di partecipare a una tappa del campionato del mondo che era in Polonia e mi è stato chiesto, mi è stata fatta questa proposta due giorni prima della partenza, quindi era un venerdì, mi ricordo che il giorno dopo avevo l'esame orale della maturità e niente, ho saputo questo, ho cercato di far tutto per stare dentro nei tempi, ho preparato tutto in fretto, ho chiamato il mio navigatore e niente, ci siamo immersi in questa bellissima avventura che ne valsa veramente la pena perché comunque fare quei chilometri lì, quelle strade lì, ci portiamo a casa un bagaglio di esperienze non indifferente. Adesso riusciamo a andare anche in Finlandia, questa domenica partiremo per il rally del Finlandia, quindi veramente facciamo tante esperienze, è quello che ci serve in questo momento. Riportandomi a quello che dicevi prima è grazie al supporto di ACTIM Italia che dall'anno scorso ha selezionato dei giovani talenti che riusciamo a fare queste gare e a metterci sempre più in linea. Non voglio dimenticare che comunque dietro c'è la federazione che ci supporta e di questo ne sono contento, però mi ritengo veramente molto fortunato da avere dietro anche delle persone veramente molto umili che è la cosa più importante come sono quelle della scuderia, quindi mi ritengo molto fortunato di aver conosciuto loro da quando ho iniziato a correre e soprattutto adesso in quest'anno perché abbiamo fatto moltissime cose insieme, talmente tante che le ritengo come una famiglia, per questo ci sono anche i bei momenti, i litigi, è un po' come avere una ragazza se si litiga perché ci si tiene alle cose insomma. Beh guarda, io ti dico che rimango quasi dito, sono quasi emozionato da quello che mi stai raccontando, non posso piangere perché poi dovrei rifarmi il trucco, ma voglio essere onesto, lo avevo un po' percepito dalla faccia di Mario che io ho conosciuto stasera, ha un sorriso a 45 minuti da quando è entrato in questo studio, probabilmente si sente a casa parlando di rally, di gare, ce lo sta trasmettendo prima, sto dicendo cose giuste. Dici delle cose giuste e poi sentire veramente delle parole da lui fanno veramente piacere perché comunque riesce proprio a dire cos'è realmente questa scuderia, cos'è realmente comunque il nostro rapporto, nel senso che comunque è veramente una famiglia, ci sta veramente bene, nel bene e nel male, ci si sente fuori le gare e questo qua secondo me è importante e lui è riuscito proprio con le sue parole a trasmettere cos'è veramente una scuderia, quello secondo me è una cosa importante. E io qui un messaggio comunque a chi sta fuori dal mondo del mozzosport lo voglio lanciare perché in questo studio ne sono passate di scuderie, questa è una delle più importanti, ma posso garantirevi che questo spirito regna sovrano in tutte quelle associazioni dedicate al motosport e quindi voglio dire lo dobbiamo difendere a tutti i costi questo sport ragazzi perché veniamo a messi in luce solo soltanto quando magari c'è qualcosa che non va, in realtà nel motosport, salite, rally o di che si parli c'è del buon cuore, tantissimo impegno perché solo... Daniele quanti sono gli sforzi che i ragazzi fanno per correre? Sono tanti, sono tantissimi della scuderia e dei ragazzi anche a livello economico di allenamento, di sforzi per cercare di andare avanti, migliorarsi perché questo fondamentalmente quello che come hai detto te prima, partiamo per divertirsi però poi quando siamo in macchina e con il casco sulla testa il fatto del divertimento non è che passa un po' in secondo piano perché quando arrivi in fondo al tavolino, bravo, quando arrivi in fondo al tavolino se c'è qualcuno davanti a te lo butti giù, il rospo lo butti giù un pochino male mi fa piacere sentire le parole dei ragazzi perché comunque se i nostri sforzi sono tanti ma sono tutti, grazie a loro, li facciamo per loro, li facciamo per noi, tutte le persone che sono con noi, tutti i ragazzi che sono con noi, maggiormente li ho conosciuti come dicevi prima con il mio lavoro e sono diventati amici, fratelli, persone che non abbiamo rapporti solo ed esclusivamente a livello di corse ma sono diventati talmente tanto importanti per noi che è la classica serata fuori a cena, i problemi, se qualcuno ha qualche problema magari riusciamo a interagire e a cercare di risolvere le cose quindi la vera parola amico e la vera parola di fratellanza e comunque sia è la cosa migliore secondo me e questo sicuramente vi fa onore Jack, quanto è importante in manifestazioni e competizioni come quelle che ha affrontato Damiano quindi di caratura mondiale dove si ha la possibilità di fare un passaggio e mezzo forse perché bisogna tenere attenzione, non trova traffico, brutto tempo, nebbia altrimenti la strada non la si vede atteggiamento giusto guarda come ti dicevo prima è la concentrazione io ho fatto gare di tutti i tipi, ho fatto tante gare di mondiale quindi so esattamente cosa prova Damiano e sicuramente è la testa io ho visto nella mia carriera gente molto brava a guidare ma che non sapeva mettere giù le note e alla fine dei risultati non ne ha mai fatti o il contrario, molto bravo a mettere giù le note ma se non hai il piede che lo tieni giù non vai quindi queste due realtà insieme contano tantissimo sicuramente per lui che è giovane farsi l'esperienza con solo due passaggi non è facile però poi penso che anche dentro di sé sia anche bello però quando in una curva riesce a fare in un certo modo non conoscendola quindi penso che sia molto importante e poi voglio dire una cosa di quello che ha detto lui perché molte volte sulle scuderie è vero la parola amicizia, è vero tutto ed è bellissimo, con lui è proprio nata un'amicizia fraterna come con Damiano e spero anche con lui che non conoscevo beh, col pacca ci conosciamo da sempre però dire solo amicizia dopo viene anche sminuito qui invece c'è tanta professionalità perché se noi diciamo, beh, volevamo se bene e basta no, non è, le merende è una cosa bella ma quando poi si corre forte in macchina conta tanto il professionale quindi sono proprio persone professionali e questo per me è bellissimo beh, Marco notevole le cose che ha detto Giacomo nei confronti di Daniele si vede proprio Daniele che sprizza professionalità di pori come si suol dire perché già lui nel suo lavoro è molto minuzioso e sicuramente se fa del suo lavoro anche il discorso scuderia sicuramente fanno una cosa veramente speciale è quello che sogniamo un po' anche noi devo dirti che Driver è nato proprio per una scommessa quello di poter passare il tempo libero contro i pareri favoribili o meno di chi sta a casa perché abbiamo sempre le quattro ruote in testa in mezzo a questo mondo siamo di nuovo giunti al momento della pubblicità qui il tempo ragazzi bisogna comprarlo ancora non andate via tra poco torniamo eccoci qui torniamo in studio e adesso andiamo a analizzare insieme quello che DPD fa nel sociale perché non ci dimentichiamo che questa scuderia oltre a gestire dei veri e propri piloti da mondiale chi l'ha fatto prima e chi mi auguro lo farà ancora lo abbiamo anticipato prima Mario ha veramente un ruolo importante grazie a questo trofeo che tu insieme ad altre organizzate vuoi spiegare da casa di qual è l'iter di questa organizzazione e dove vanno i proventi raccolti perché questa è la cosa più importante sì questo come dici tu è la cosa veramente più importante perché noi abbiamo conosciuto Lino Sommavilla che voglio anche salutare che è praticamente il delegato di Belluno della fondazione della fibroecistica che è una malattia genetica colpisce molto in Italia una percentuale molto alta di bambini e colpisce i polmoni e il pancreas i polmoni purtroppo è la parte più critica perché da lì si creano delle infezioni dove purtroppo non si guarisce cioè non c'è cura il pancreas con i nostri soldi dove abbiamo fatto questa ricerca hanno trovato questa enzima che con una pastiglia riescono a migliorare la qualità di vita i soldi che noi raccogliamo praticamente li devolviamo interamente a questa delegazione di Belluno dove potete trovare sul loro sito tutti i progetti che abbiamo fatto in questi sei anni siamo riusciti a ricogliere più di 15 mila euro e con questi 15 mila euro qua abbiamo fatto io direi passi da gigante perché abbiamo comunque aiutato a trovare questo enzima che aiuta comunque migliora la qualità di vita purtroppo per quanto riguarda i polmoni è una situazione un pochettino più complicata ma stiamo cercando comunque con i soldi che devolviamo di arrivare anche lì non io particolarmente ma i delegati di Belluno a comunque cercare di migliorare la qualità di vita per questi bambini che comunque sono afflitti bambini e persone adulte ed è sicuramente insomma un messaggio importante quello da trasmettere anche agli altri perché così come Marco lo fanno loro potrebbe essere uno spunto per altri esatto visto che purtroppo ci sono tante problematiche sarebbe bello che ogni diciamo associazione ogni scuderia ogni squadra potesse prendersi a cuore una cosa e fare una beneficenza per un qualsiasi altra patologia ma lo si sa insomma siamo sempre tutti molto impegnati tante volte lo diciamo lo raccontiamo la voglia di far beneficenza ragazzi non ce lo nascondiamo poi dopo gli impegni la testa e tante cose passa sempre tutto in secondo luogo questo succede fin quando si sta bene poi quando le cose cambiano spero più tardi possibile magari ci si prende un po' a cuore questa situazione quindi il pilota che si iscrive al trofeo delle merende che cosa fa? praticamente versa una quota di 100 euro che sono 50 piloti 50 navigatori dove noi questa cifra la devolviamo interamente in beneficenza noi riusciamo tramite i nostri sponsor che voglio ringraziare tramite DPD che ci dà una grandissima mano riusciamo a dare un sacchetto merenda l'abbiamo chiamato dove all'interno ogni anno cerchiamo di cambiare nel senso che l'anno scorso faccio un esempio dell'anno scorso abbiamo dato una bellissima cosa che vale di più delle 100 euro che si danno perché abbiamo dato sia pilota che navigatore un sottotuta personalizzato dove ci sono i loghi del trofeo delle merende dove ci sono i loghi di questa fibrosicistica di Ovinco nella ricerca poi abbiamo dato la bottiglia di vino personalizzata ad ognuno gli occhiali il braccialetto e poi dei vari gadget le varie merende nel senso tutte le merendine comunque dolciumi che comunque servono per fare felicità nel senso che comunque è il nostro scopo di tutti comunque fa sempre piacere trovare un mi piace l'idea mi piace è molto interessante molto interessante non so se noi ci saremo perché se no minuti minuti sulla schiena magari lasciamo prendere qualcun altro questo è un mito ufficiale potremmo metterci d'accordo io e te ragguagliamoci poi diciamo chi sta davanti chi dietro chi nel bagagliario chi davanti ecco questo puoi perché stare da parte al pacca dopo quello che mi hai fatto provare non è così semplice sei già salito una volta basta diamo delle dati ufficiali poi insomma avremo modo magari noi lo faremo nel corso dell'anno prima di arrivare alla data ufficiale di promuovere questo evento ci prendiamo questo impegno ragazzi driver si prende l'impegno di darvi una mano a promuovere il vostro trofeo assolutamente noi fa un grandissimo piacere anzi farà un bel piacere mettere anche comunque il vostro logo sulla nostra livrea che comunque è una livrea personalizzata che tutte 40 50 quanto saranno gli iscritti l'ultimo anno eravamo 57 tutte le macchine avranno la livrea uguale che è una cosa molto importante dove nella livrea ci saranno i simboli della ricerca e i simboli degli sponsor che ci hanno dato comunque una mano a fare tutto questo trofeo qua quest'anno sarà la data ufficiale il 2, il 3 e il 4 di ottobre partiamo dal venerdì sera con la cena e sarà il Jolly Ronde ad Aosta sarà un nazionale non titolato e quest'anno lo faremo lì sempre top con l'N3 e junior con l'N2 tutti assieme e quest'anno abbiamo molte sorprese in più come sacco merenda come altre cose che pian piano nel tempo comunque dovremo svelare davvero queste queste gare così meno impegnative però in realtà dietro non nascondono delle competizioni agueritissime perché io ho visto partire Lunghi poi arrivo a Cantamessa Caffoni Gianesini cioè lì c'è piovuto dentro la creme dell'analismo italiano poi davvero in certe volte ci sono più lotte in quelle gare lì con quelle classi aguerrettissime che magari nelle gare veramente importanti infatti sono quelle gare qua soprattutto in questi progetti sono 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 gare da invidiare soprattutto perché veramente si crea una bella famiglia e soprattutto si crea un rapporto di amicizia tra tutti i piloti navigatori finché si va a mangiare poi quando ovviamente si mette il casco siamo tutti quanti agguerrediti e uno vuole stare davanti all'altro tutti amici ma con il casco in testa tutti nemici esatto quello deve essere così sempre però veramente sono gare da fare infatti anche prima mentre sentivo le parole ci stavo pensando insomma anche perché tu che vieni dal palcoscinico mondiale in questo momento sei abituato ad avere una trentina di competitor nella stessa classe normalmente nel realismo italiano salvo rare eccezioni sette o otto macchine per classe qui insomma si riesce ancora ad avere una bella flotta di partenti l'anno scorso avevamo 57 partenti e siamo comunque sempre cresciuti perché il primo anno siamo partiti da 34 il secondo siamo arrivati a 42 il terzo eravamo 47 il quarto quanti N3 c'erano? l'anno scorso c'erano esattamente 29 N3 Jack io credo che siano passati anni da quando non vedo 29 auto della stessa categoria non la stessa lì ecco la cosa bella di una situazione del genere è che non ti devi preoccupare di uno in particolare ti devi preoccupare di tutti ti devi preoccupare di 29 avversari quindi è meglio che pensi alla tua gara assolutamente infatti questa cosa mi ha fatto molto piacere perché se penso quando io ho cominciato con una ritmo 130 gruppo N era quella del babbo di Damiano è simile eravamo in 68 in classe tutti con le ritmo in Liguria e questa è una legare dei tempi quindi mi piace molto questa idea di essere tutti allo stesso livello e con costi abbordabili questo è molto bella questa cosa veramente e sicuramente si riesce ad elevare un po' anche la qualità del pilota perché con una macchina del genere Daniele con una macchina del genere dove cavalli non tanti sai che hai dei competitor fortissimi devi guidare davvero devi guidare davvero come poi si fa in tutte le classi in tutti i modi ognuno cerca di fare il meglio di se stesso e il meglio della macchina in chiaro se posso spendere due parole il trofeo delle merende tutte queste vetture come stai dicendo sono sì per la voglia di correre e tutto quanto però credo che sia proprio il fatto dell'aggregazione della partecipazione la partenza di tutto cioè il venerdì sera la cena è la cosa più bella e secondo me anche parlando con lo stesso Cantamessa Longhi è difficile trovare cento e più persone perché siamo stati anche alle nostre scene sui 130 persone a tavola che hanno tutti lo stesso la stessa passione la stessa voglia allo stesso tavolo a parlare delle nostre cose ore e ore delle nostre cose le nostre cose nel senso la nostra passione cioè le corse e quindi arriva a un certo momento che la gara in se stessa viene messa un attimo da parte è in secondo piano e questa è la cosa che a noi e devo anzi ringraziare i ragazzi dell'ossola Mario in primis che è un grande braccio destro non posso dire che è tutta farina del nostro sacco perché siamo stati fortunati ad avere loro che ci hanno cercato per fare e per appoggiarli in questa cosa e su questo noi siamo molto molto orgogliosi e li ringrazio di nuovo perché ci dà la forza e l'orgoglio di fare qualcosa di bene per le persone che purtroppo non hanno la nostra fortuna di tutti i giorni e fa bene anche chi la fa la beneficenza è chiaro la gara è la gara poi si scannano e se le danno di santa ragione scusate il toscano però un altro dei tuoi piloti che le dà di santa ragione è un certo Rovatti che è giunto poi dalla trasferta di 15 giorni fa al Casentino insomma dimostra costantemente di essere lì beh Michele non lo dimostra solo nelle IRC e non solo con la Twingo io dico l'IRC perché normalmente è un campionato è il campionato che affronta anche quest'anno come lo affronta da tanti anni anche quest'anno con la Twingo R2B sì ha vinto tutte e tre le gare in programma e stiamo preparando già il Vallecunesi che è l'ultima gara in calendario e come dicevo Michele su qualsiasi macchina è montato in tutta la sua carriera anche prima di conoscere di conoscere noi è sempre andato veramente forte è uno che il piede l'ha molto pesante sì e se posso permettermi abbiamo anche nello stesso campionato questo è il vostro spazio ragazzi Driver dà spazio al nostro sport e di conseguenza sentiti libero di fare tutto quello che vuoi come stavo dicendo nell'IRC quest'anno con un RS con un CLI RS abbiamo anche Mirko Straffi che anche lui al Casentino si è comportato molto molto bene sta crescendo molto bene è un figlio d'arte suo padre come ha detto prima Damiano sta a corso negli anni addietro per divertimento con macchine anche abbastanza grosse e quindi sta venendo su bene è un buon cavallo di razza un ringraziamento se mi permetti sempre ho piacere di nominare anche nel Casentino nazionale quindi chilometri ridotti come ben sappiamo noi un altro equipaggio sempre con una CLI RS questo in famiglia era mio fratello e ha fatto un buon terzo assoluto quindi un bel piazzamento anche per buongiorno buongiorno ben venga quindi bene un buon Casentino anzi un ottimo Casentino direi come sono state fortunatamente anche tante altre gare grazie a Jack grazie a Damiano ci possiamo fregiare di buoni risultati Daniele hai coinvolto veramente veramente tutti io spero che questa sera giunti al termine di questa puntata sia veramente passato il messaggio che questa scuderia vuol dare quindi porti aperte a tutti quelli che vogliono contattarti dpdgroup vuoi dare magari il tuo indirizzo di posto elettronico al tuo sito dove possono contattarti Daniele certamente noi abbiamo un sito e una mail che è supporters schiocciola dpdgroup.tv il nostro sito è supporters dpdgroup.tv contattateci se avete la passione del correre quando accendendo un motore vi viene la pelle d'oca forse la nostra scuderia è la cosa giusta per poter affrontare le gare ci piace ti dico solo questo ragazzi siamo giunti purtroppo al termine io voglio ringraziare Jack e ti spiego a continuare a fare quello che stai facendo con tanti giovani perché loro sono il futuro anche per noi assolutamente i giovani li ho visti tantissimi continuo a seguirli e Damiano è nata veramente una vera amicizia bene e quindi insomma lui va a raccontare i tuoi risultati grazie a voi grazie a voi grazie mille a Mario noi magari ci saremo e poi vedremo di mettere la nostra bella corazza su tutte le auto altre fedele merende ci contiamo un in bocca al lupo grandissimo per il tuo Finlandia e saremo qui a tifare per questo orgoglio italiano Damiano insomma io mi auguro che tu possa realizzare tutti dei sogni all'interno del motosport crepi il lupo grazie Daniele grazie mille ancora complimenti per tutta la tua squadra spero che Daniel questa sera sia stata all'altezza della vostra struttura se siete stati molto all'altezza vi ringrazio e la consiglio a tutti perché è come stare veramente in famiglia ci avete messo a nostro agio in tutto e per tutto ringrazio ancora una volta tutti quelli che ci stanno intorno e ci danno una mano e grazie a tutti buonasera a tutti e questo è il motosport a presto insomma noi lo sappiamo bene siamo sempre a casa sì esatto è giunto il momento di salutarci noi vi aspettiamo alla prossima puntata vi ricordo che il concorso cerchi uno sponsor chiedi la driver per il rally dell'osso l'ho ancora aperto scriveteci premeremo i due piloti navigatori che ci scriveranno alla mail più originale e Card Cup si avvicina la data fatidica 15 settembre sarà il momento dove dovrete dimostrarci quanto valete noi vi aspettiamo perché il nostro driver potresti essere tu come giusto che sia noi vi salutiamo e ci vediamo settimana prossima buonasera grazie a tutti Grazie a tutti.